E continuiamo a parlare di natura, la splendida natura del territorio delle valli da pesca del Veneziano. La provincia ha infatti presentato il censimento degli uccelli svernanti che dimostra un netto aumento dei volatili proprio nelle valli da pesca. La seconda giornata del ventesimo censimento degli uccelli svernanti in laguna e nella laguna di Caorle e Bibione che si è concentrata appunto sulle valli da pesca, stavolta tramira e campagna lupia. La provincia stima 180 mila tra gli esemplari di alza piccole anatre che fanno proprio delle valli da pesca il loro habitat con 90 mila dello scorso anno, confermando dunque un trend in crescita della presenza del territorio di uccelli svernanti passati da 74 mila del 1993, epoca del primo censimento, a oltre 300 mila dello scorso anno. Abbiamo appena visto il vicepresidente Mariano Dallator che ha detto l'incremento del numero dei volatili svernanti nelle valli da pesca che è dato non solo dalla straordinarietà di questo ambiente ma soprattutto da una gestione attiva a cui va dato merito al personale. Il censimento sta impegnando infatti oltre 100 persone tra cui circa 30 agenti della polizia provinciale.